Si scaldano i motori a Pagani in vista del ballottaggio in programma domenica 9 giugno. Ad intervenire il sindaco uscente Salvatore Bottone che commenta il risultato del primo turno che lo ha visto fermarsi al 25% a fronte del 49 raccolto dal suo competitor Alberico Gambino. Una partita in ogni caso più che aperta secondo Bottone che valuterà con la sua squadra anche possibili apparentamenti con altre liste. Siamo pronti a proporci di nuovo per questi ulteriori 15 giorni che ci porterà al ballottaggio. Sono abituato, è successo già 5 anni fa, adesso andremo ancora a dire ai nostri concittadini quello che abbiamo fatto, siamo entusiasti perché siamo vogliosi di portare avanti questa strategia amministrativa importante per il risanamento che abbiamo messo in campo per la nostra città e poi per far intendere ai nostri concittadini che è il momento di rilanciare la nostra città e di non farla tornare indietro. Ci saranno apparentamenti con gli altri competitor? Siamo a due ore dal risultato, siamo qui ancora al Comune perché c'erano delle attività ancora da fare in qualità di sindaco adesso ci fermiamo prima di tutto con i miei amici, con le mie liste, con coloro che sono stati al mio fianco nel corso di questa campagna elettorale e insieme andremo a valutare e verificare ma siamo già pronti per andare a portare avanti le nostre ragioni e questo primo risultato va letto in maniera molto chiaro che Pagani non vuole tornare indietro, Pagani vuole andare avanti.